buonasera lettori lettrici scrittori scrittrici aspiranti comunque spettatori e spettatrici io sono Susanna Basile psicologa e sessuologa clinica e siamo in compagnia di Sara Grisiglione psicologa psicoterapeuta ora si presenta lei intanto è psicologa psicoterapeuta che ho incontrato che ho conosciuto qualche giorno fa ma è stato un grande amore a prima vista quindi proprio perché ho trovato una peggio di me cioè nel senso che tra lauree specializzazioni lavoro che tipo di lavoro fa eppure ha due figli eppure un cane ecco mettiamola così ecco quella importante quindi è una meravigliosa donna ecco in questo senso così col suo ultimo libro il suo ultimo libro prove d'autore che è un manuale vedere sì certo assolutamente sì prova d'autore con un bellissimo sottotitolo che mi che mi puoi leggere tu che è una un manuale così dimmi corso se miserio di scrittura emotiva io l'ho vista sul giornale sulla Sicilia ho detto ma chi è questa donna meravigliosa e l'ho contatta l'ho tantinata ce l'avete presente gli stalker io sono uno stalker non è vero sei stata carinissima ma hai cercato mi hai trovato devo dire che è stato un piacere anche per me perché è vero abbiamo tante cose in comune sia il percorso di studi probabilmente iniziato anche dopo il nostro primo percorso so che tu hai fatto filosofia io ho fatto lingue poi io sono diventata una docente dello stato insegno in un liceo artistico di catania e e dopo l'amore per la psicologia mi ha portato a fare tutta la diciamo la trafila perché il nostro mh iter è molto lungo le due lauree poi l'anno di eh diciamo tirocinio post lauream l'esame di stato non ce lo scordiamo che è stato bello tosto e infine quattro anni di specializzazione io sono analista transazionale e questo è questo è il momento clou quando tu mi hai detto ho fatto questo libro e quindi ho ricevuto e mi sono fatto un'infarinatura perché oggi comunque sia non parleremo del libro in maniera dettagliata questo poi lo faremo successivamente quando in altre puntate ora vedremo no che nel frattempo non glielo diciamo detto così lasciamo i nostri spettatori in col brivido la puntata di oggi l'abbiamo creata appositamente perché lunedì prossimo giusto alla diciotto alle diciotto lunedì prossimo alle diciotto alla libreria Mondadori e quella di via Coppola quella di via la nuova sede prima era in via di San Giuliano adesso si è spostata in via Coppola ci sarà la presentazione proprio la primissima presentazione del libro con Daniela Ventivoglio docente di lettere nel mio stesso liceo che si occupa di libri da tanto e appunto li recensisce fa dei corsi sempre con i nostri ragazzi ed è una vita lettrice quindi avevo proprio un grande piacere di presentarlo con lei che insomma ha letto il libro e vedremo in questa ghiacchierata che cosa uscirà fuori lunedì quanti ne abbiamo aiutami allora è il sedici il sedici giusto è importante perché poi usciamo quindi il sedici alle diciotto alle diciotto alla libreria Mondadori di via Coppola bene questo diciamo era la come si dice il messaggio che poi ricorderemo alla fine nel frattempo io che mi sono tuffata nel libro in due tre giorni quindi perché volevo proprio prendere il il come si dice mi dici se ti è piaciuto no eh ma questo lo lasciamo in sospesa anche per gli spettatori devo dire che è molto utile ecco mettiamolo in questi termini che poi eh di fronte secondo me a un bicchiere di vino no cioè eh insieme a un cenacolo e con un'istruzione dietro parlo per me perché sono un addetto ai lavori non per altro quindi non sono diciamo la parte che lo fruirebbe ehm come utente certo capito in questo senso mi sembra un'ottima applicazione ma proprio anche come gioco cioè questo potrebbe essere visto che tu sei un analista transazionale ho visto che per voi i giochi sono importanti no giochi con le eh tre virgolette no perché noi pensiamo sempre i giochi sono per i bambini no i giochi sono per gli adulti e il bambino degli adulti giusto se dico bene ok comunque questo era tanto per fare questa una una piccola premessa poi dopodiché la prima domanda era quella che c'è proprio scritta nella la tua introduzione a cosa serve un corso di scrittura creativa e poi l'altra domanda correlata che era a chi serve un corso di scrittura vai sì allora un corso di scrittura creativa serve a molte persone e può anche essere utile per iniziare un percorso che è quello dello scrivere però vi dico subito che non non si diventa scrittori facendo comprando un manuale e seguendo gli esercizi che ci sono perché sarebbe riduttivo perché non mi va di sostituirmi ai grandi scrittori che ogni anno fanno dei corsi importanti io ne ho fatti con alcuni di loro anche più di uno proprio perché quelli insomma ti danno una formazione a trecentosessanta gradi il mio prove d'autore un po raccoglie la sintesi di questi corsi che ho fatto personalmente che mi hanno dato degli input ma che hanno fatto diciamo uscire eh quella che poi è la mia vena creativa che c'è sempre stata che si è espressa anche in altre maniere ehm perché serve un corso in questo caso e prove d'autore io lo lo reputo manuale più di scrittoterapia la scrittoterapia che io utilizzo ormai nel setting terapeutico sia individuale che di gruppo come tecnica è qualcosa che permette la breazione cioè la catarsi di qualcosa che comunque deve venire fuori prima o poi che ci fa stare male che può essere dovuta a un trauma a un disturbo d'anzia a qualcosa che è un conflitto interiore e che comunque attraverso la scrittura che ha la capacità di nel tempo che si può appunto diluire nel tempo con una frequenza che è quella individuale e rispettando i tempi di ciascuno permette all'altro di far venire fuori quello che è che magari con altre metodiche è più difficile mentre lì ehm se noi vediamo anche le neuroscienze oggi la scrittura ha questa capacità di collegare attraverso eh i gruppi le categorie eccetera collega tutto questo gruppo di famiglie di parole che poi un po' come faceva Freud non sono altro che le libero associazioni per cui noi come terapeuti diamo un input attraverso l'anagramma di un nome come 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 spiego nel libro io o attraverso un titolo un completamento di esercizi di 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 racconti lavoro molto per esempio con i colori e le emozioni che poi servono a creare un filo conduttore spesso emergono quelli che sono i vissuti del paziente quindi a cosa serve? serve a mettersi in gioco ma non come artisti perché non è quello l'intento io non sono non è che chi si è comprato il mio libro domani diventa uno scrittore di fama non sarà sufficiente però sicuramente si metterà in gioco con gli stimoli che troverà dentro magari 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 ehm oggi io per esempio ho notato con le perché ci ho provato no? A creare a creare sai uno ci prova sempre io vi ripeto con le mie pazienti ho provato con il diario terapeutico no? ci ho provato ho provato allora c'è chi l'ha fatto c'è chi non l'ha fatto c'è dice non me ne devi non me ne devi parlare perché a me scrivere non mi è mai piaciuto oppure essendo delle persone che si esprimono benissimo nel senso che comunque sono ehm persone che hanno grandi capacità intellettive no? E allora poi ho trovato un'altra formula per poter avvicinarmi a loro quando avevano magari un momento di crisi no? Un problema di ansia o un attacco di panico visto che ci sono questi mezzi nuovi ehm hanno usato il registratore vocale no? Per esempio. Sì. Io infatti pensavo questo perché per questo volevo leggere un po' i tuoi capigli no? che magari ce n'è qualcuno che eh magari lo approfondiamo no? Solo così ma io a questo proposito Susanna scusa volevo aggiungere una cosa la scrittura è un abito non tutti lo possono indossare ovviamente non utilizzo solo quello ci sono tante tecniche poi io sono molto sincretica non sono solo un'analista transazionale prendo quelle che sono anche le tecniche da altre eh diciamo da altri indirizzi ehm la gestalt ma anche la la cognitivo comportamentale non 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 mi sembra mi sembra riduttivo fermarsi solo a quello che tu hai fatto nella scuola di specializzazione poi i nostri interessi io sono anche naturopata quindi il corpo per esempio per me ha una grandissima importanza come per Cornell che è uno dei maggiori rappresentanti dell'analisi transazionale parla del corpo però voglio dire poi me lo sono approfondito perché ha a che fare con la mia la mia anima che è quella pianistica poi mi hai detto che praticamente stai finendo anche il corso di sessuologa quindi sì sto facendo con Mara Porcaro la scuola di Salerno Università di Salerno una un master quasi biennale di sessuologia clinica sì perché io penso che anche quella componente come quella emotiva quindi l'affettiva la 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 sessualità in genere eh non possono essere scisse quindi volevo approfondire anche quello io sono molto contenta perché quando ho iniziato l'ho fatto nel duemila e quindici duemila e quindici duemila e diciotto sembrano c'è che sono passati eh che sono secoli poi in realtà non è che sia cambiato molto quindi sono contenta che invece più colleghe siamo e più questo discorso viene sdoganato perché purtroppo è vero che ho ancora tanti tabù riguardo questo tema i ragazzi eh a causa anche della diciamo così delle forme lascive che che ritroviamo su internet sembrano più disinibiti in realtà invece ci sono proprio dei blocchi che non per cui c'è molta disinformazione esatto quello che quella quella non è sessualità quella è non lo so come chiamarla però sicuramente con la sessualità poco a che fare certo assolutamente quindi allora io volevo fare una volata proprio per per introdurre sempre per perché sennò noi due chissà dove ce ne andiamo invece brava e poi zoom ci dirà ci bacchetterà esatto allora dicevi prima eh l'anagramma è il tuo nome dialogo con un bambino l'autoritratto il significato del tempo no quindi questo sembra che riguarda le emozioni poi pensavo fosse amore un oggetto che mi rassomiglia il telefono il mio mostro quindi questa sarà la parte sicuramente la parte quella ombra la parte la paura ecco perché poi ci sono emozioni per ogni capitolo introdotte da poesie che appunto iniziano il lettore ma anche il futuro scrittore ad esercitare quell'emozione particolare poi a mano libera il narcisista puntuale io ogni volta che leggo sul narcisismo viene troppo poi abbiamo un un fiore nel deserto sempre quindi sempre nell'ambito delle emozioni caro amico ti scrivo sì eh un ottimo fertilizzante il postino però mi manca quello sull'erotismo dov'è allora era il narcisista puntuale l'immagine erotica pagina cento quattro ecco questa qua io ho messo questa poesia sì eh vai la leggo sì sì leggila così immagine erotica sì hai sfogliato in fretta le pagine senza nemmeno leggere l'incipit e sei arrivato subito alla fine mi disci come potevi capire la trama saltando così tanti capitoli come molti sei stato attratto dal titolo ridondante in realtà non era il libro che volevi leggere ma godere solo dell'immagine erotica impressa in copertina può avere a che fare con un legame finito male con un'attrazione fisica che non non si è evoluta e non è diventata amore può avere a che fare con il nostro senso del godimento che è più visivo che attraverso tutti gli altri sensi no? cioè noi godiamo con gli occhi di un'immagine di un'opera d'arte e vediamo i social e abbiamo queste mh variopinti immagini che ci martellano e che ci scorrono davanti agli occhi senza fermarcene verso una in particolare un po' come il narcisista che ha diverse relazioni in contemporanea perché deve soddisfare il proprio ego e non quello dell'altro tu per esempio un'altra emozione che voglio collegare a questo parlavi credo nella prima proprio nella nella prima poesia del della dell'imbarazzo della vergogna del coraggio no? cioè questo attraverso questi esercizi ci si permette di sondare delle emozioni che sono contrastanti da questo punto di vista certo sono anche quelle meno accessibili no? perché la paura, l'ansia, la tristezza, la depressione in terapia ne parliamo tantissimo perché sono anche quelle che poi danno origine alla psicopatologia più comune no? quella delle varie nevrosi invece l'imbarazzo, la vergogna proprio perché sottintendono un rossore, una incapacità di 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 essere proprio sinceri su quello che si sta provando sono spesso coperte da altro da tutt'altro per questo volevo volevo fare questa associazione pur essendo il tema del del primo capitolo no? volevo per questo in questo senso ma proprio sempre perché mi piace questo discorso, questo tuo modo di affrontare direttamente le discussioni bene ora ti faccio un'ultima domanda e chiudiamo così restiamo nei nei tempi no? ok possiamo divertire quando ci pare il fiore delle emozioni che mi è piaciuto tantissimo, questo fiore colorato, che cosa che cos'è che cosa rappresenta? allora, intanto è una un'immagine che ho sdoganato da internet ma che comunque è molto utilizzata per la vedere, per la vedere nelle varie terapie, nelle varie diciamo anche quando si parla appunto di emozioni è un fiore che racchiude con petali di colore diverso la gamma di emozioni con le loro gradualità per esempio la gioia diventa tiepida ed è serenità ma diventa esaltata nell'estasi oppure la noia che può diventare disgusto fino ad essere ripugnanza quindi mi piaceva come puoi vedere, guarda Susanna, vedi il verde, il giallo, l'arancio eccetera hanno sfumature diverse così come sono le emozioni che partono dall'emozione primaria per poi essere diciamo più leggera o più grande, più forte e cambiare nome certo, questo praticamente una volta che l'hai colorato così con queste sfumature può essere utilizzata anche nell'ambito meditativo assolutamente sì, anche con la cromoterapia per chi utilizza la cromoterapia può attraverso i colori diversi e le luci diciamo parlare, suscitare ma un po' è quello che io voglio fare introducendo ogni capitolo con delle poesie che non sono soltanto messe a caso ma ce ne sono due o tre o più e sempre anche lì con gradualità per cui prendono quell'emozione ma con una gradazione diversa un po' come questo fiore poi ho visto che comunque dopo alla fine di ogni capitolo ci sono due o tre pagine che sono lasciate vuote guarda questa è stata una carineria che con la mia editrice e la Rostella Grasso abbiamo in comune deciso abbiamo detto ma sai che può essere un manuale carino per esercitare ciascuno le proprie capacità anche le proprie emozioni lasciamo delle pagine con delle righe come i quaderni di una volta in modo che ciascuno chi acquista questo libro lo farà diventare il proprio libro potrà annotare le proprie poesie i propri raccontini, i propri pensieri e questo credo che possa essere anche utile nelle scuole in un corso per esempio di scrittura o di lettura sia per i docenti che per i terapeuti esercitando i loro clienti o studenti perfetto, benissimo quindi a questo punto chiudiamo salutiamo i nostri spettatori salutiamo tutti, grazie a tutti esaustivi ricordiamo di nuovo la presentazione del libro che avverrà lunedì 16 maggio alle ore 18 presso la Mondadori Bookstore di Via Coppo la Catania va bene non è stato facile ma ci siamo riuscite perché tutte e due siamo due conduttrici è vero volere e potere Susanna salutiamo ciao a tutti grazie per essere stati con noi